Come possiamo misurare a casa valori come il picco glicemico e il picco lipemico? Il picco glicemico, cara Grazia, è il più alto valore della glicemia dopo mangiato. Il picco lipemico è il più alto valore dei trigliceridi dopo aver mangiato. Esistono in commercio, a disposizione, degli strumenti che sono in grado di misurare la glicemia e i trigliceridi. Esiste anche uno strumento unico, cambia la striscia dove posare la goccia di sangue mediante digitopuntura e si possono eseguire sia la glicemia, sia il trigliceridi, ma anche il colesterolo nello stesso strumento, cambiando la striscia. Sono interventi di conoscenza che aiutano notevolmente a dare un giudizio sulla propria alimentazione.